16 valvole, 2000 centimetri cubici, 1000 cavalli, è un 4x4 integrale, permanente, ha fatto l'avventura che detiene il retro di velocità assoluta nel mondo del delta, naturalmente c'è un grande passione, la curiosità che la guida è il sindaco, stiamo parlando del sindaco di Polvo Tossigliano vicino a Ivola, rama racing, naturalmente non poteva mancare il meccanico Taba, un bel 140 kg di ruota, un attenziale, un aumento per gli amanti del Marco Tagliano, per questo lancio delta integrale, una macchina sviluppata, un'attività si , in váriosi anni più esiste, adulti più esiste, 1.6, il 6.5, il tipo di ris inverse, il 5.6, il 7.6, il 7.19, il 5.5, il 6.19, il 5.6, 3.6, la schiena sviluppata il La sfida contro Morgana, il Lancia Delta RR1 integrato all'integrazione integrale permanente. La trazione del Delta contro il record Quari Valzano è 8,644 ed è il record mondiale. Mille cavalli sotto il cofono del Delta che può arrivare anche di più per un 2.0 cm cubici 4x4 integrale con 16 valvoli pronti a suonare. La sfida contro il ha scaricato tutta la sua frazione 8 e 9 8 e 9 contro 10 e 7 nel 2016 hanno fatto il record di Okenheim 8 e 6 il record di Okenheim arriva Nazzano ha fatto segnali il record 8 e 6 e 44 record mondiale per quanto riguarda il mondo del Delta questa è la Delta numero 1 in Europa solo arriva Nazzano possiamo vedere questo spettacolo e questa manifestazione il meccanico Taba un uomo di ben 140 kg dall'indicazione a Mauro Dini ma in allineamento si accendono le luci pre-stay stage poi la sequenza è un missile 8 e 8 ragazzi applauso per lo staff del Delta incredibile 8 e 8 velocità di uscita 260 km orari applauso per la vettura di Rama che è dato spettacolo il testo integrale applauso per la vettura di